Lettura del Vangelo secondo Marco In quel tempo, i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso Vennero e gli dissero Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno ma insegni la via di Dio secondo verità È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro Voglio vederlo Ed essi glielo portarono Allora disse loro Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero, di Cesare Gesù allora disse Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare e quello che è di Dio, a Dio e rimasero ammirati di Lui Pace bene amici, ben ritrovati in questa domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista Inizia un altro ciclo Un altro momento liturgico Sempre secondo il rito ambrosiano Il Vangelo di oggi è illuminante circa il nostro rapporto con la politica, con l'autorità Innanzitutto il tema generale è quello della fedeltà Della fedeltà a Dio sino alla morte Nella prima lettura troviamo questi maccabei, questi ebrei che sotto il gioco di Antioco Epifane vogliono a tutti i costi, con coerenza, conservare la propria fede e allora non si assoggettano e l'antico Epifane fa uccidere circa mille persone compresi uomini, bambini, vecchi, donne e il Vangelo di Erno è un Vangelo che è situato dentro la risposta di Gesù meglio che viene interrogato in modo ipocrita e dentro un contesto polemico troviamo Gesù nel Tempio capitolo XI di Marco dove l'Evangelista situa il Signore a insegnare nel Tempio prima di patire la sua morte e risurrezione Gesù dà una risposta è lecito o no dare il tributo a Cesare? e evidentemente è una domanda trabocchetto perché se Gesù dicesse no sarebbe contrario all'autorità romana riscrirebbe la vita se dicesse sì si metterebbe contro il popolo il quale non voleva non si assoggettava o si assoggettava in un modo forzato non voluto di malavoglia all'autorità pubblica romana date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio innanzitutto Gesù distingue i due poteri le due autorità non ne fa un tutt'uno non ci può essere confusione un conto è Dio e un conto è Cesare anche se Cesare allora l'imperatore romano era considerato il Signore colui che stava a capo di tutto date a Cesare quello che è di Cesare a Dio quello che è di Dio un conto è Dio e un conto è l'uomo ma uno si chiede subito immediatamente che cosa è di Dio che cosa appartiene a Dio e che cosa è dell'uomo di Cesare per rispondere a questa domanda dobbiamo tenere presente per intero il Vangelo di Gesù che cosa ha fatto Gesù per Dio qual era il rapporto tra Lui e Dio Padre per Lui Dio era tutto la volontà del Padre era suo cibo e ripetutamente troviamo un Signore in questa preghiera confidenziale figliale che rivolge al Padre il Padre determina tutta la vita di Cristo a Cesare appartiene poco a Dio appartiene tutto a Cesare appartiene quello che è di Cesare la sua moneta quelle che sono le cose comuni che dobbiamo rispettare per un buon andamento civile politico sociale da tenere presente poi che l'uomo è immagine di Dio dall'inizio della creazione troviamo riportateci dal libro della Genesi troviamo questa affermazione che Dio ha fatto ha creato l'uomo su immagine e somiglianza allora dentro l'uomo c'è l'immagine di Dio e l'uomo appartiene a Dio sulla moneta c'è l'immagine di Cesare dati a Cesare quello che è di Cesare insomma Gesù si esprime in un modo velato ma chiaro la sua risposta poi ha fatto storia lunghi secoli Gesù ha risposto che a Dio dobbiamo dare tutto a Cesare quelle cose che servono per vivere la nostra vita umana e nel caso ci fosse una conflittualità tra l'autorità di Dio e l'autorità di Cesare siccome a Dio va tutto dobbiamo sentirci liberi proprio perché siamo riferiti a Dio siamo possiamo sperimentare una libertà vera autentica nei confronti di tutti e di tutto anche dello stesso Cesare anche della stessa autorità civile allora quando noi ci troviamo in un contesto sociale politico per cui ci sono leggi ingiuste che vanno comunque contro il Vangelo sappiamo a chi dare la precedenza al Vangelo di Gesù Cristo a Dio stesso e quindi dobbiamo impegnarci perché giustizia sia fatta la giustizia di Dio innanzitutto non quella dell'uomo che viene dopo pace bene amici assumiamo questo compito gravoso di un impegno sociale perché dobbiamo contribuire a fare meglio a dare un volto più umano più divino a questa nostra comunità a questa nostra società pace bene e diffondiamo la pace che Francesco e tanti santi ci hanno insegnato grazie a tutti